Benvenuto in News Mix Up, ricorda di iscriverti attivando la campanellina, lascia un bel like e commenta. Il tuo supporto è fondamentale per il nostro canale. Grazie, secondo varie fonti online, tra cui il noto sito wikipedia.org, si calcola che Toto Coutugno abbia raggiunto l'incredibile cifra di oltre 100 milioni di copie vendute durante la sua carriera, confermandolo come uno degli artisti musicali italiani più di successo di tutti i tempi. La sua carriera non è stata solo segnata da record di vendite, ma anche da una notevole versatilità, poiché ha conquistato la vetta delle classifiche sia come interprete dei suoi brani che come produttore e autore di canzoni per altri artisti. Tra i nomi più noti per cui ha lavorato spicca quello di Adriano Celentano, con cui ha collaborato negli anni 70 e 80, contribuendo alla creazione di successi memorabili, tuttavia, ciò che rende la storia di Toto Coutugno ancora più intrigante è un aspetto della sua vita personale. È noto per essere il padre di un giovane di 33 anni di nome Nico, il cui arrivo è stato il risultato di una relazione extraconiugale. Sorprendentemente, è stata proprio sua moglie Carla a spingerlo a riconoscere il ragazzo e a instaurare un legame con lui. In un'intervista, Toto Coutugno ha dichiarato che, nonostante la sua infedeltà, Carla non lo ha cacciato di casa, ma al contrario lo ha sostenuto nella decisione di riconoscere suo figlio. Conferendogli il proprio cognome, questa storia di riscatto e redenzione, insieme al talento musicale straordinario di Toto Coutugno, lo rende una figura ancora più affascinante nel panorama musicale italiano. La sua musica ha incantato milioni di persone, mentre la sua storia personale ci ricorda l'importanza della redenzione e del sostegno familiare. Oggi, Nico, il figlio di Toto Coutugno, ha conseguito una laurea in economia ed è considerato uno dei tanti giovani talentuosi italiani su cui il nostro paese dovrebbe investire per il futuro.